Musica Bitonto si candida a capitale italiana della cultura 2019, lo stesso anno di Matera, capitale europea della cultura. Abbiamo tutte le carte in regola per partecipare, ha dichiarato il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, molto ottimista e positivo. Tutto parte da un progetto del MIBACT che ha come obiettivo sostenere, incoraggiare e valorizzare l'autonoma capacità progettuale e attuativa delle città nel campo della cultura. Un'iniziativa volta a generare coesione sociale, stimolando la creatività, l'innovazione e lo sviluppo economico individuale e collettivo. L'entusiasmo dei cittadini non manca. La città si sta quindi preparando a questa grande opportunità. È importante il coinvolgimento di tutti, oltre agli enti locali, in tutte le diverse fasi della realizzazione. Il primo incontro informativo fa quindi ben sperare.